Articolo di Antimafia 2000 pubblicato il 15 luglio 2017 sulla pagina Mafia News, processo Dalì, depositata intercettazione su Graviano. I giudici devono decidere su richiesta soggiorno obbligato. La DDA di Palermo ha chiesto l'acquisizione di un'intercettazione in carcere nella quale Giuseppe Graviano parla di un senatore, Dalì, di Trapani, che sarebbe strettamente legato a un latitante che stanno cercando, nell'udienza davanti al Tribunale di Trapani, sulla misura dell'obbligo di soggiorno per il senatore di Forza Italia Antonino Dalì. Gli investigatori, al di là della trascrizione letterale della conversazione registrata tra Graviano e il co-detenuto Umberto Adinolfi, ritengono che il boss di Brancaccio stia parlando di un presunto rapporto tra il superlatitante Matteo Messina Denaro e il senatore. I PM, che ne chiesero la condanna a sette anni e quattro mesi per concorso in associazione mafiosa, ritengono il politico socialmente pericoloso. Da qui la richiesta dell'applicazione della misura di prevenzione. La difesa di Dalì, rappresentata dall'avvocato Arianna Rallo, ha chiesto un termine per analizzare la documentazione e pronunciarsi sull'acquisizione. L'udienza è stata aggiornata al 14 settembre. Dalì è stato assolto in primo grado e in appello. I giudici hanno dichiarato prescritte le accuse contestate al senatore per i fatti precedenti al 1994, mentre hanno ritenuto non provate quelle relative al periodo successivo. Il verdetto, passato ingiudicato per la parte relativa alla prescrizione, è stato impugnato davanti alla corte di Cassazione, che ancora non ha fissato il processo.